sabato italiano per parlare di tutto e di più buon sabato mattina da radio mondo e rieti in vetrina nuovo appuntamento con sabato italiano la rubrica che ci accompagna di settimana in settimana nei vari argomenti dell'attualità reatina insieme a noi stamane c'è alberta paris presidentessa lions club rieti varrone benvenuta salve a tutti grazie lei da ormai quasi un anno è la presidentessa di questo lions inizierei parlando però di come è avvenuta questo passaggio della campana dicevo appunto un anno che poi è volato di tante di iniziere se ne sono state fatte tante la fatica è stata tanta sicuramente anche la soddisfazione ma come è nata questa carica allora la diciamo la carica di presidente è una carica elettiva che diciamo i soci i soci riconoscono ad una persona a cui vogliono dare questo incarico di rappresentarli per un anno perché la nostra la durata della nostra carica va dal primo luglio dell'anno in cui si si entra come presidente al 30 giugno dell'anno successivo il già da dalla nostra organizzazione prevede di individuare dei vicepresidenti che poi a seguire diventeranno presidenti negli anni successivi il 24 giugno del 2022 c'è stata un una bellissima cerimonia in un locale di rieti e lì è stata ufficializzata diciamo il passaggio della campana tra il past president che è il presidente dell'anno che mi ha preceduto il dottor fasciolo e quindi il mio la mia l'inizio della mia presidenza il con nell'inizio della presidenza possiamo dire che più o meno insomma sono riniziate tutte le varie iniziative bloccate a causa del covid infatti negli anni precedenti di service purtroppo per colpe non nostre il covid ci ha impedito di fare dei service a cui noi siamo abituati perché siamo molto attivi sul territorio e quindi di service ne facciamo sempre moltissimi e quest'anno tutti i soci mi hanno aiutato coadiuvato e quindi siamo riusciti diciamo a tornare a quelle che erano le nostre le nostre abitudini sane abitudini pre covid per lei il senso di rappresentare un lions e quindi servire il territorio qual è beh io in prima persona mi sono spesa moltissimo per rappresentare al meglio il club perché giustamente le persone che avevano riposto in me fiducia aspettavano questa mia questo mio impegno e come come lions siamo sempre attivi e lì dove riscontriamo che possiamo essere utili ci spendiamo ci spendiamo insomma in maniera importante prima di andare in diretta abbiamo fatto insomma una un recap di tutti i punti che avete rispettato e quelli che verranno messi in campo gli ultimi mesi insomma di mandato avete fatto tantissime cose la prima qual è stata e quale sarà l'ultima quindi diciamo l'apertura e la chiusura del suo mandato allora la prima il primo evento è stato i primi eventi sono stati quelli di luglio in realtà e partecipiamo ormai da molte anni ad un evento che si svolge a cottanello le cottanelliadi che sono diciamo organizzate dalla figlia di un nostro socio che ci invita sempre lì e il nostro club in particolar modo con i giovani sono presenti perché è un evento prevalentemente di natura sportiva quindi da lì siamo partiti perché poi abbiamo avuto il sentiero planetario a Terminillo e durante l'estate sono stati dei service legati molto più alla natura quindi diciamo tenuti all'esterno per poi avere eventi importanti tipo il gemellaggio con il con il lansio club di bettelem che è stato un veramente una cosa che ci ha inorgoglito molto come club perché è un gemellaggio extraeuropeo quindi diciamo di un paese di un paese che noi sentiamo vicini vicino perché il greccio è gemellato con la città la città di greccio è gemellata con la città di bettelemme quindi abbiamo visto questo coronamento di questo nostro gemellaggio con il club di bettelemme è venuto il fondatore del club quindi una bellissima cerimonia sia a greccio che in sala consigliare in cui è stata ufficializzata con la firma della pergamena diciamo questo patto d'amicizia e di condivisione di futuri service che dovremo studiare insieme con il club gemellato un'altra ufficializzazione è stata quella della donazione del forno al mago e quindi alla mensa Santa Chiara che in questa fase si trova al mago certo e questo forno era lì da qualche tempo e sempre una nostra donazione e abbiamo donato quindi abbiamo ufficializzato la donazione di questo forno e di tanto altro materiale sempre adatto alla cucina e finalmente viene utilizzato per una finalità di alto livello perché in questo periodo lì stanno cucinando la mensa di Santa Chiara quindi viene utilizzato al meglio e la finalità insomma è stata raggiunta Nell'ultimo anno ma anche negli anni precedenti al di là del covid come è cambiata la situazione nel territorio reatino soprattutto per le persone meno ambienti e quindi più bisognose di aiuto? Beh di richieste di aiuto sicuramente ne giungono molte di più al club noi abbiamo aderito anche al banco alimentare che è una... Ogni anno aderite poi? Noi aderiamo ogni anno e con l'adesione al banco alimentare ci arriva pancali di materiale di derrate alimentari una volta al mese e noi con questi prodotti diciamo cerchiamo di soddisfare le richieste delle persone diciamo le richieste di aiuto che ci giungono aiutiamo comunità e famiglie tutto documentato a sostegno certamente di chi ha bisogno quindi l'estate siete prettamente focalizzati sul territorio nel senso natura e quindi storia e cultura organizzando eventi Adesso abbiamo riniziato tanto che domani ci sarà un nostro evento con la visita al castello di Roccasinibalda e poi ce ne andiamo verso il lago del Turano quindi un'uscita diciamo la prima uscita veramente primaverile del club è tutto prenotato, i soci hanno risposto con piacere sarà un primo evento culturale che richiamerà i soci a Roccasinibalda alla visita del castello La fatica come abbiamo detto è stata tanta perché comunque sia organizzare, verificare, prenotare insomma è molta le mancherà però questa carica? Beh quest'anno è stato fatigoso Ha riempito l'anno direi Sì è stato faticoso però è stato un anno di grossa soddisfazione e anche un anno in cui ho molto apprezzato l'amicizia che regna all'interno del club perché tutti i soci si sono spesi ognuno per le proprie competenze ed abilità a venirmi in aiuto quindi diciamo tutto quello che è stato fatto nel programma e quello che faremo ancora fino al 30 giugno non lo avrei potuto certo fare da sola se non avesse avuto tanto aiuto da parte dei soci del mio club il Varrone è stato molto vicino a me come presidente Poi una nota bella insomma 55 componenti solamente 8 donne ok Sì poche donne 47 uomini che però hanno eletto una donna Certo ma sì perché non c'è un atteggiamento di maschilismo all'interno del club quindi anche altre mie diciamo altre socie nel passato sono state presidenti del club quindi diciamo la valutazione è di natura diciamo meritoria meritoria e quindi a prescindere dal sesso non si fanno queste valutazioni all'interno del club Chi sarà il successore di Alberta Paris? Il prossimo presidente Maurizio Rosati a cui il 24 giugno con il passaggio della campana cederò la spilletta di presidente Ha mai pensato che un anno potesse passare così velocemente? Veramente è volato perché non ho avuto il tempo di annoiarmi quindi un'iniziativa segue l'altra quando ho iniziato no sinceramente no non lo pensavo neanche così impegnativo ad essere sincera Quali altri appuntamenti separano insomma gli ultimi due mesi da oggi alla fine del suo mandato? Allora domani abbiamo questo evento con la visita al castello di Rocca Sinibalda Quindi domenica 23 aprile Sì domenica 23 aprile Poi abbiamo un evento bellissimo che è un convegno sul nucleare in tempo di pace che si terrà in sala consigliare e ci saranno vengono dall'ISIN quindi dell'ispettorato per la sicurezza l'utilizzo del nucleare in pace e in radioterapia quindi è un evento di natura culturale e scientifica molto importante Poi andremo a visitare l'ortus simplicium con aperitivo medievale noi facciamo sempre eventi di natura culturale che però producono anche un service di cui individuiamo un beneficiario quindi sono eventi culturali e chiaramente sociali Poi abbiamo la visita alle grotte di Valdevarri quindi di nuovo sul territorio per cultura e promozione Chiaramente ci sono poi sempre i prodotti del Banco Alimentare che continueranno a pervenire nei mesi di maggio e giugno Sicuramente parteciperemo insieme ad altri club alla pedalata dell'amicizia durante il mese di giugno e poi stiamo organizzando un'auto in modo retorno di auto d'epoca e di moto d'epoca nelle zone nel nostro territorio per promuovere proprio il territorio perché vengono auto e equipaggi da fuori rieti da fuori regione, un po' da tutta Italia quindi è un piacere per noi Una vetrina per il territorio Certo, per il territorio, una bella vetrina e poi finirà il mandato e per il prossimo anno mi riposerò un po' Invece degli eventi passati ce n'è uno che è rimasto più a cuore? Sicuramente il gemellaggio perché è stato molto molto emozionante anche se diciamo abbastanza difficile da organizzare perché la lingua fa sicuramente crea sicuramente un problema anche se all'interno del club abbiamo la fortuna di avere un nostro socio che parla l'arabo quindi diciamo siamo stati agevolati e lui ci ha fatto sicuramente da traduttore e da interprete quindi ha tagliato molte delle difficoltà ma gli eventi sono stati tutti belli abbiamo avuto un quadrangolare di calcio per i ragazzi che si è tenuto al coriandolo e quindi abbiamo avuto tante gare tanti giovani l'avvicinamento dei giovani allo sport e abbiamo partecipato alla festa dei nonni abbiamo mandato un bel rinfresco alle nonnine di una RSA di iniziative abbiamo fornito piantine da mettere a dimora ad una comunità che si diciamo autogestisce con l'agricoltura sono stati tanti sono stati tutti validi tutti impegnativi hanno impegnato me e gli altri soci in maniera importante come vede Alberta dopo questa carica e dopo il periodo di riposo? ma io sono sempre molto attiva per carattere quindi per il club sarò sempre a disposizione a dare una mano anche senza la carica di presidente sarò comunque attiva il mio aiuto sarà assicurato il numero di 55 componenti quindi è un numero limite o può anche crescere? no no sicuramente crescerà perché queste nostre iniziative ci hanno fatto conoscere sul territorio e quindi sicuramente ci saranno persone anche tra i nostri amici che potranno essere interessati perché premetto che nell'entrare in un club si deve essere presentati quindi non è che ci si può diciamo proporre o ad aderire senza essere conosciuti e presentati ma sicuramente saremo in crescita i progetti che ha il club al di là insomma di chi sarà presidente chiaro mantenere i punti saldi che porta davanti da anni ma anche incrementare poi i progetti certo perché per quanto riguarda i Lions ci sono dei progetti che sono pluriennali e che vengono riproposti tutti gli anni per esempio abbiamo quest'anno abbiamo avuto il progetto Martina che è un progetto importante perché è un progetto che porta degli esperti nelle scuole si rivolge prevalentemente ai ragazzi di 14 13-14 anni e riguarda il cancro giovanile e quello è un progetto che si svolge un po' in tutti i club in club d'Italia quindi sicuramente sarà riproposto così come l'altro progetto che è il Sing for Kid che è il progetto per l'individuazione dell'ambliopia nei bimbi della scuola dell'infanzia che è una patologia se vogliamo l'occhio pigro perfetto di poca gravità però si è scoperta nel momento giusto e questi progetti sicuramente verranno riproposti il Banco Alimentare troverà la sua continuazione e poi il Presidente proporrà un suo programma chiaramente così come ho fatto io ascoltando chiaramente le proposte del Consiglio e ci attiveremo per la prossima annata Riavvolgendo un po' la bobbina da quanto tempo il Lions Club Rieti-Varrone è sul territorio? Sono quasi 50 anni sono quasi 50 anni che il club nasce come club di Leonessa e poi transitato su Rieti e cambiando la denominazione in Rieti-Varrone proprio per diciamo gratificare il nostro il nostro il nostro compaiesano e quindi da circa il 76 dal 76 è omologato il club siamo quasi in chiusura mi piacerebbe anche un po' sottolineare la rete che si crea ma anche all'interno del club stesso cioè i rapporti tra le varie persone perché non è solamente stare lì beh la rete è importantissima e l'amicizia che ci lega lo è altrettanto perché se non ci fosse un rapporto di amicizia che ci unisce non riusciremmo non avremmo il piacere di stare insieme a lavorare perché ogni service presuppone un impegno organizzativo che non è che si ci vede la mattina del service cioè presuppone l'organizzarsi di ascoltarsi sentire le proposte di uno le proposte dell'altro quindi fare rete ed essere in armonia è una cosa essenziale all'interno di un club se si vuole organizzare bene ma anche rete con altri club sicuramente noi abbiamo in questa annata abbiamo organizzato vari inter club con altri club del territorio e club sempre molto ben riusciti e service sempre molto ben riusciti abbiamo organizzato con il Flavia Gens abbiamo organizzato con il club di Città Ducale che è il club di cui noi siamo stati diciamo padrini tra virgolette e anche lì ci sono tanti amici con cui lavoriamo in armonia e in sinergia abbiamo parlato però di giovani con dei service a loro rivolti ma ci sono anche i giovani che si avvicinano a Lions il nostro club ha anche il club Leo che sono i ragazzi fino a 30 anni dai 18 ai 30? sì dall'adolescenza diciamo fino a 30 anni e ne abbiamo vari anche noi del nostro club il Leo club Rieti Verrone e abbiamo avuto nel passato tra i nostri tra i nostri giovani Leo abbiamo avuto anche il governatore Giorgio Dionisi che è stato insomma una soddisfazione per il nostro club sapere di avere il governatore per tre regioni perché è stato il governatore del distretto quindi Lazio Umbria e Sardegna e loro anche sono attivi spesso si organizzano fanno dei service da soli leggermente guidati dall'officer che è proprio addetto alla guida di Leo e dopo 30 anni i Leo possono transitare nel Lions degli adulti degli adulti degli adulti mi ha lanciato un assist ci puoi spiegare un attimo cosa significa il distretto Lazio Sardegna Certo allora il Lions in Italia è sopraggiunto intorno alla metà del 1900 e come si sono formati i primi i primi club c'è stata la necessità di dividere il territorio in distretti il distretto assegnato all'Italia è il 108 e su questo 108 ci sono poi delle appendici il nostro distretto è il 108 L e comprende tutti i club all'interno delle regioni Umbria Lazio e Sardegna il governatore è governatore del distretto quindi riguarda diciamo è colui che è a capo dell'organizzazione delle tre regioni e poi ci sono i presidenti di zona quindi le zone a un'ulteriore divisione all'interno del distretto e la nostra zona è la la zona A 108 LA ci sono fanno parte di questo di questo di questa zona i club di Rieti i tre club di Rieti che sono Varrone Rieti Ost e Flavia Gens Città Ducale Amatrice Miciliano Terminillo e Antrodoco Ost questi sono i club che ricadono sul territorio della zona Prima di salutarci ultimi due minuti vuole insomma raccontarci qualche altro evento che avete fatto nel corso dell'anno beh abbiamo a quale viene chiaramente diciamo il più importante sì abbiamo fatto anche un bellissimo evento perché noi siamo anche appassionati di cucina all'interno del club ci sono molti soci appassionati di cucina quindi spesso facciamo dei service in cui noi cuciniamo acquistiamo i prodotti per organizzare delle scene cuciniamo e poi chiaramente ai nostri amici offriamo la cena e il ricavato è a favore di un beneficiario che andiamo poi ad individuare e quindi quindi sempre il risvolto sociale il risvolto sempre sociale cioè non si fa niente che non sia rivolto al sociale all'interno del club io ringrazio Alberta Paris Presidentessa del Lions Club Rieti Varrone io ringrazio lei perché mi ha consentito di far conoscere le iniziative del mio club grazie ringraziamo chi ci ha seguito non ci abbandonate perché dopo la pausa musicale avremo ospite l'Arma Carabinieri come ogni sabato per l'appuntamento di approfondimento sulle attività che svolge l'Arma nel territorio latino oggi parleremo di bullismo e cyberbullismo a fra poco arrivederci